Ancora furti in città, nel mirino dei ladri nuovamente una cassaforte, in questo caso aperta con un flessibile. L'ultima razzia si è infatti consumata in via della Minerva, a pochi passi da piazza Sant'Agostino, dove i banditi in pieno giorno hanno svaliggiato l'abitazione di un noto architetto aretino. I ladri, proprio come è successo qualche giorno fa in via Teofilo Torri, sono infatti riusciti ad aprire la cassaforte, in questo caso utilizzando un flessibile elettrico. Il colpo è stato messo a segno in una manciata di minuti, poi la fuga con un bottino fatto principalmente di preziosi. Al momento le forze dell'ordine, polizie e carabinieri sono al lavoro per cercare di identificare gli autori di una lunga scia di furti che si sta consumando in città. Risale infatti solamente lo scorso martedì l'assalto ad un appartamento in zona Giotto, dove i ladri erano riusciti a smurare con un piccone la cassaforte portata via di Sana Pianta prima di darsi alla fuga con un bottino che potrebbe aggirarsi sui 10.000 euro. A lanciare l'allarme in quel caso erano stati i vicini allarmati dagli insoliti rumori. Ho sentito dei botti, delle martellate, insomma, via. Ma non soltanto io, tutto il palazzo sentiva questo lavoro. Cosa avete pensato? A volte fanno dei restauri, non lo so, non ho idea. Io sono anche sceso, ho guardato, ho visto quei fiori lì, lì per terra, ma non ho pensato a una cosa del genere. Dopo, quando ho visto il vetro rotto, allora è arrivato anche quella che ha messo l'antifurto, ma era troppo tardi. Grazie. 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 Grazie a tutti